l'ultimo film del grande bogart è stato proprio il colosso d'argilla del 1956 e dopo appunto bogart morì comunque ha lasciato ha lasciato alla grande per questo bel film un film proprio alla bogart la storia è quella di un giornalista che deve attraverso i suoi articoli attraverso la sua pubblicità creare per conto di altri per conto di alcuni boss della mafia deve creare un colosso d'argilla cioè viene scelto appunto un pugile grosso di stazza però non forte tecnicamente soltanto grosso e basta che non sa boxare viene fatto diventare attraverso appunto della pubblicità come l'uomo più forte del mondo viene 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 fatto portare fino a fargli disputare il campionato del mondo dei pesi massimi nella box e attraverso incontri truccati e naturalmente questo per le vincite per le scommesse perché ricordiamo che la box in america è sempre stata nelle mani della mafia e e quindi questo per per le scommesse dopo appunto quando si trova davanti un campione vero naturalmente questo 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 personaggio toro moreno nel film perde 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 male e bogart far la figura di questo giornalista che al soldo della mafia deve creare questo fenomeno da baraccone il mafioso interpretato da un grande rod steiger è bravissimo grande attore molto qui con quando recitano sia lui che bogart in questi film americani sono molto il ritmo è molto sostenuto veramente sono naturalissimi un piacere vedere vedere questi due grandi attori fare un film insieme lavorare in un film insieme e toro moreno è stata alcuni ricordano un po come la storia del nostro carnera carnera che è diventato campione del mondo dei pesi massimi pugile di origine italiana friulana di so quals diventato campione dei pesi massimi però è stato portato ecco dicono chi lo sa dove si dove la verità può stare carnera vera aveva una grande forza forse era un po ingenuo non si era reso conto dell'ambiente in cui si trovava ed è stato anche usato però era non era assolutamente un pugile di nessun valore era un buon pugile usato appunto per comunque dalla mafia forse per arrivare per i soldi per gli incontri truccati e comunque questa storia è basata su di lui è però un film stupendo sempre un film io amo i film bianco e nero soprattutto di quegli anni degli anni 50 in cui abbiamo l'ultimo bogart che illumina illumina con la sua presenza tutto il film abbiamo qua personaggi di rilievo c'è anche jersey joe walcott che fa la parte di george diciamo l'allenatore del pugile di toro moreno che è stato veramente un campione del mondo di un campione vero dei massimi è stato sconfitto dal grande rocky marciano io sono fan di rocky marciano e poi c'è anche max baer altro grande campione ebreo degli anni 30 fortissimo e quindi questo è un film proprio sulla mafia sulla malavita sulla box sulla box di quei tempi gestita appunto dalla malavita ma un film bello in cui si mescolano anche grandi valori umani alla fine comunque c'è da dire che bogart interpreta questo giornalista che comunque ha una coscienza e man mano che il film procede lui sopporta sempre meno il vedere il vedere vedere questo toro moreno usato questo pugile usato per fini loschi per fini per fini criminali alla fine questo pugile quando perde è buttato via e con con pochi spiccioli tutta la sua fatica si era ridotto a guadagnare pochi spiccioli però però henry bogart gli offre gli offre quello che lui aveva preso dalla mafia i soldi che aveva preso per cercare di riparare la situazione di aiutare quest'uomo è un po come lavarsi la coscienza e rosteiger l'ho già detto grandissimo nei panni del gangster a quei tempi negli anni 40 e 50 negli anni 40 e 50 la box americana era nelle nelle mani di di carbo ecco questo era il gangster che dominava appunto tutto forse anche la figura di rosteiger si rifà questa figura da gangster di carbo e quindi l'invito come sempre di guardare quest'ultimo film di bogart peccato che dopo ci ha lasciato perché poteva dare ancora tantissimo un film bello un film in cui c'è tutto un film completo grande regia grande grande prova di attori questo è un film da guardare quando quando uno vuol trovare qualcosa di nuovo qualcosa che non conosce qualcosa di quello spaccato di quella società americana di quegli anni degli anni 50 molto bella ecco l'atmosfera che si respira è molto bella di un di un tempo che fu